Un cuore culturale pulsante nel centro della città di Benevento, parliamo dello storico cinema Teatro San Marco che negli anni è cambiato. Sono stati presentati gli eventi per l'anno 2013-2014, collaboreranno le associazioni BN Comics, Demos, la Biancora, musica, corsi di teatro e attività di animazione per bambini e ragazzi. Allora, al Cinema Teatro San Marco di Benevento la presentazione dei nuovi eventi per la stagione 2013-2014, come sta cambiando il cinema? Il cinema sta cambiando, si sta cercando di, almeno il cinema, quello che facciamo noi perché è un cinema di qualità, quindi noi puntiamo sempre sul cinema di qualità. Quindi è chiaro che, puntando sul cinema di qualità, le fette di utenti, cioè di persone che chiaramente ci seguono, sono veramente esigue, sono poche. Però noi non è solamente cinema che vogliamo fare, che vogliamo offrire, vogliamo offrire qualcosa di più. Ecco perché il nostro team vuole cercare, attraverso tutta una serie di attività, di trasformare questa sala cinematografica in una sala polivalente. Quindi non solo cinema, bensì mostre, teatro, musica, spazio dedicato ai bambini, poesia e così via. È giusto dire che la mannaia della crisi ha colpito anche le sale cinematografiche? Ma certamente, certamente ha colpito le sale cinematografiche, specialmente le monosale come la nostra. Quindi è proprio attraverso, cioè proprio cercando in qualche modo di riemergere da questa crisi, ecco proponiamo qualcosa in più. Anche l'associazione Arts Lab collabora con il cinema Teatro San Marco, ormai è diventato un po' un centro culturale. Sì, c'è questa nuova vita che il cinema vuole assumere di centro polivalente per le arti, per la cultura. È una grossa opportunità per tutti, anche perché la posizione è centrale, siamo nei pressi dell'arco di Traiano. E quindi penso che lavoreremo per valorizzare questo spazio. Musica di diversi generi, ho letto. Sì, siamo in lavorazione, stiamo cercando di capire che proposta portare qui e come meglio utilizzare il foyer. L'obiettivo è di coprire tutti gli spazi possibili e di avere un appuntamento seguito da tutti i beneventani. Al cinema Teatro San Marco una mostra anche a cura di BN Comics. Sì, è la prima mostra di BN Comics, abbiamo ricevuto un invito da parte del cinema San Marco che è stato immediatamente preso d'assalto da noi di BN Comics. Infatti abbiamo realizzato in pochissimi giorni una mostra dedicata a due dei nostri artisti, ce ne saranno molte di più nei prossimi mesi. Che in questo caso sono Stefano Donatiello e Ferdinando Silvestri. A questo punto invito tutti a venire al cinema San Marco a vedere le tavole di questi due fantastici artisti e di seguire tutte quante le iniziative di BN Comics che trovate sia sul sito bncomics.it che su Facebook, sul gruppo Potete entrare senza nessun problema. È aperto a tutti, a chi piacciono i fumetti e a chi meno. Grazie.